Tutti gli uomini coinvolti nello scandalo FIFA, scattato dall'inchiesta condotta dalla giustizia statunitense, ricoprono o hanno ricoperto posti chiave nella Federazione dell'America Centrale del Sud America. Tra gli arrestati in Svizzera figurano Jeffrey Webb, delle isole Cayman, vicepresidente del comitato esecutivo della FIFA dal 2012 e anche direttore della banca Fidelity con sede nelle isole. Eugenio Figueiredo Uruguayano, di 83 anni, ex calciatore e vicepresidente della Confederazione Sudamericana di Calcio Combole, vicepresidente della FIFA. Giuseppe Maria Marina è presidente della Federazione Brasiliana dal 2012. Eduardo Li è presidente della Federazione in Costa Rica e è presente nei vertici dell'organizzazione da una decina di anni. Raffaele Schivel, spagnolo, fuggito in Venezuela durante il regime di Franco, è diventato presidente della Federazione nel paese nel 1988. Cuglio Rocha, ex calciatore, è capo della Federazione Nicaragua dal 1990. Jack Warner, che attualmente ricopre cariche politiche a Trinidad e Tobago, ha fatto parte dell'esecutivo della FIFA dal 1990 al 2011. Non è stato ancora arrestato perché al momento del blitz non si trovava nell'hotel di Zurigo. Gli agenti dell'FBI indagano da tre anni sull'organo di governo del calcio mondiale, che ha comunque confermato che le prossime sedi delle Coppe del Mondo nel 2018 e il 2022 resteranno Russia e Qatar.